Come aule decentrate i nostri ragazzi sono stati accompagnati da ragazze messi a disposizione della Proloco, hanno visitato i castagneti vicino, che molti bambini magari mai avevano avuto l'opportunità di frequentare questi posti così belli. Quindi hanno scoperto il bosco di castagno, hanno visto alberi di tanti anni, si sono informati sulle possibili malattie, sulla diversità dei frutti. E poi tutte queste osservazioni sono diventate argomento di studio all'interno delle classi. Per cui è una bella iniziativa che mi auguro possa continuare anche negli anni a venire, quindi grazie alla Proloco. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Siamo ormai nella clou di questa festa straordinaria in cui il sindaco si balla, si mangia, soprattutto si mangia e si beve gratis qua. Si mangia e si beve gratis, ma la cosa più bella sono i ragazzi cinesi del progetto Erasmus che sono qui con noi questa sera e che abbiamo il collegamento con le università. Cento ragazzi di università cinesi che sono qui per stipulare un accordo tra Sanfili e Universiti. La Cina, Sanfili e la Cina, questo è un grande orgoglio. C'è una popolazione, non solo di Sanfili, ma dell'Interland. Siamo contenti per questa grande giornata che vuole far risaltare la natura, l'equilibrio naturale, le bellezze della natura che sono essenziali per proteggere perché l'uomo molte volte ha rovinato e ha fatto dei danni. Beh, allora, questa è una grande festa oggi, tu parli italiano? You speak English? Sì, sì. Ok, you speak English, and you like Sanfili? Uh, like very much. Ok, a te piace Sanfili, you like Sanfili? Uh, I like Sanfili. Beh, siamo tutti d'accordo, questa è davvero una grande festa. L'Arsa non ha portato qui soltanto le castagne, avete anche portato un po' dei vostri tanti altri prodotti e la gente li sta degustando, devo dire, con molto piacere. Sì, questo lo facciamo sempre perché non solo li facciamo conoscere, ma ecco, come diceva lei, li facciamo degustare. Oltretutto anche i piatti caldi quando si muove lo staff del centro Florence di San Giovanni in Fiore, il ristorante di eccellenza. Quindi una varietà enorme di prodotti, tantissimo dagli insaccati ai sottoli, ai vini, quindi tutto quello che c'è di buono nella nostra regione Calabria, da IDOC all'ITG, tutto quanto, salumi, formaggi in particolar modo. Questo ringrazio anche l'assessore Rima che di concerto con noi porta avanti questa iniziativa e anche grazie all'Arsa la conoscenza di questi nostri prodotti tipici sia in Italia che anche all'estero sta prendendo piede, sta avendo un enorme successo. Voto ci uscita. Buon appetito! Abbiamo davvero tante cose qui da mangiare.